Musica Seconda giornata di qualificazione qui a Cruce Napoca, la BTP Arena per i mondiali juniors di ginnastica ritmica oggi era il turno di clavette e nastro e proprio al nastro con la più piccola del gruppo classe 2009 Lara Manfredi, ginnastica Fabriano, arriva la bella notizia perché otteniamo finalmente una finale di specialità e quindi la rivedremo in pedana domenica, vi ricordo in diretta su Italia Team TV con il commento tecnico di Marta Pagnini che è proprio in compagnia con le meravigliose individualiste azzurre e le loro allenatrici, quindi do la linea a te Marta Musica Siamo qui con tutte le ginnaste e le loro allenatrici, partiamo subito dall'Ara Manfredi che ha centrato una bellissima finale al nastro oggi due parole per descrivere l'emozione che hai provato È stato magnifico, prima di entrare in pedana non provavo neanche tanta agitazione, ero proprio sollevata e non vedevo l'ora di entrare Giulietta Cantaluppi, la sua allenatrice, un altro bellissimo risultato, ormai è una grandissima esperienza com'è stata questa prova, la prova di Lara di oggi? In verità è stato molto tranquillo come ha detto lei, era molto concentrata, serena e quindi è venuto naturale diciamo Una bellissima gara oggi anche per Sasha, ha una delle sue primissime esperienze in campo internazionale Tu che cosa hai provato su quella pedana oggi Sasha? È stato molto bello, peccato per l'errore iniziale ma sono riuscita a riprendermi e fare il resto dell'esercizio molto bene Grazie Sasha, Asia Fedele invece hai fatto la tua gara ieri con la palla, quali sono state le sensazioni prima di entrare in pedana e poi invece subito dopo il tuo esercizio? Allora mi sono sentita bene, è andata bene, cioè sono felice Chiara Puosi, tu hai gareggiato con il cerchio, com'è stata la preparazione per questa gara così importante e come ti sei sentita una volta che sei entrata su quella pedana? Allora anch'io non ho provato tanta ansia come magari in altre competizioni sentivo di più, anzi ero abbastanza tranquilla Mi sono augurata questa esperienza, mi sono divertita e ho cercato di dare il meglio di me e sono felice di quello che ho fatto Adesso passo alle due allenatrici, Francesca Cupisti è l'allenatrice di Chiara Puosi Un'esperienza pazzesca per un campionato del mondo junior, Chiara ha una bellissima prova ieri Tu da allenatrice cosa hai provato e quali erano le tue aspettative? La mia primaria aspettativa era quella che lei riuscisse a esprimersi e riuscisse a lasciare qualcosa in quella pedana così importante Questo è stato fatto e quindi diciamo che il nostro obiettivo è stato centrato Ha poco dalla finale, quindi questo chiaramente visto dopo possiamo essere un pochino così Però diciamo che questo è un campionato del mondo, quindi siamo molto molto soddisfatte Grazie, Chiara Marelli invece è allenatrice di Sasha Mucchina Come è andata la gara di oggi ma soprattutto come si fa a preparare delle ragazze così giovani a una competizione così di grossa responsabilità? Tutto nasce dall'allenamento in palestra, Sasha si è allenata molto bene E penso che comunque per lei rimanga una preziosa esperienza E tra questa esperienza il lavoro e comunque sono state sempre delle emozioni grandi cavalcare le pedane mondiali Ecco potete vedere dietro questa tenda il campo di gara, il field of play, da qui arrivano le ginnaste che passano verso la mid zone E da qui tra poco arriveranno le nostre meravigliose farfalline della squadra junior E racconteranno direttamente a Marta com'è andata questa meravigliosa esperienza qui nella rassegna iridata dei piccoli attrezzi a Clujo Napoca Quindi sentiamo ancora una volta da Marta Pagnini la viva voce dei nostri protagonisti Eccole qua, sono appena uscite dalla seconda giornata di gara la nostra squadra nazionale junior Qui ai mondiali, a Clujo Napoca, ai mondiali junior di ginnastica ritmica Chiedo subito al capitano quali sono state le emozioni di oggi e come ci si sente a essere il capitano di una bella squadra in questo modo? Allora oggi è stato molto molto emozionante, c'era tanta tensione ma siamo comunque riuscite a tenerla sotto controllo E siamo contenti e soddisfatti comunque di quello che abbiamo fatto Adesso domani ci sono le finali che tra l'altro andranno in diretta quindi mi raccomando seguite la nostra squadra Bianca adesso da oggi a domani come vi preparerete? Allora sicuramente dobbiamo avere sempre tanta grinta per dimostrare chi siamo in pedana E quindi oggi ci prepareremo per domani perché vogliamo dimostrare appunto chi siamo Con il nostro carattere e il nostro bellissimo esercizio Grazie, adesso ultima domanda per Gaia Come ci si sente a gareggiare con lo Scudetto dell'Italia in un mondiale? Allora io me la sento come una responsabilità altissima ma mi fa un sacco piacere E portare il nostro Scudetto con il nostro esercizio in questo campionato E' stato molto bello rappresentare l'Italia così in questo modo Chiara tu sei stata ginnasta, tra l'altro siamo state ginnaste insieme, abbiamo fatto insieme la squadra Adesso alleni un gruppo di giovanissime, una grande responsabilità ma un'emozione credo speciale Sì per me è un'emozione immensa e questo per me è il primo anno, è la prima volta che accompagno una squadra così giovane La prima volta anche da allenatrice, è stata un'esperienza fantastica Mi commuovo perché è stato un anno davvero speciale con delle ragazzine speciali E quindi teniamo forza per domani, per le finali Spero sia nelle palle che nelle funi, ora dobbiamo aspettare la fine della gara E quindi in bocca al lupo ragazze, mettetecela tutta mi raccomando Germana Germani invece ha una grandissima esperienza sia con le squadre ma anche e soprattutto con le individualiste Come hai visto questo gruppo, come è stato allenare questo gruppo in questo bellissimo anno? Allora questo è stato un anno speciale anche molto intenso Perché oltre questo bellissimo gruppo abbiamo portato avanti anche la preparazione di Asia Che anche lei ha ben figurato, abbiamo fatto gruppo in tutti i sensi Quindi è stata anche oltre tutta una famiglia, le ragazze sono state speciali Ma l'unione che si è creata in questo ambiente penso che si veda nella loro serenità, nella loro grinta, nel loro entusiasmo che hanno in pedana Hanno una lucentezza, una brillantezza che secondo me le distingue E forse arrivano ai cuori delle persone e non importa il voto, è importante quello che lasciamo sulla pedana Grazie mille Germana, allora noi vi diamo di nuovo appuntamento a domani in diretta su italiateam.tv Per seguire le finali di specialità di Lara Manfredi al nastro e della nostra squadra Tutti e due, speriamo gli attrezzi Quindi io direi che a 1, 2, 3 diciamo a domani così tutti si ricordano di seguirci 1, 2, 3 A domani!